Arnau Pradas al posto di Rakhado, giocatore di grande, visto anche il numero 4, Hector Forte, prendere l'attaccante di Sul, pallone anche Mannini, altro interno, conquistare il pallone nel traffico alla fine. Daniel Diaz, print dalla parte opposta, è terminato a terza Dotti e Daniel Diaz che trova il gol del pareggio da Polari e spinta da parte di Tommasi, la Spagna è riuscita a trovare il gol del pareggio. Tocco dentro e Daniel Diaz, sinistro educatissimo, palla che si è arrivata di poco, la traversa della porta. Il ritardo Pagnuza. Se c'entra Adrian Martin, sta arrivando Daniel Diaz, la sterza. Daniel Diaz, occhio alle capacità di questo giocatore di Valade. Allora Fiorini di testa, provata ad allungare per Scott. Daniel Diaz, lo giarsi su Adrian Martin. Daniel Diaz, la restituisce. Tra poco sarebbero ad essere più chi... Hugo Alba. Palla giocata all'indietro, accettato di testa da Zilio.